In attesa dell'estate vi parliamo di bellezza. Ecco i consigli di Showbiz per prendersi cura di sé, approfittando per esempio di una serata che vogliamo rendere speciale. E tanto per cominciare quella del viso, che grazie a tecniche sempre più sofisticate può ottenere un effetto di tonificazione in pochi minuti, all'insegna della naturalezza. Un ciclo intensivo di sedute, un mantenimento diluito nel tempo e il risultato è garantito. Quello che abbiamo fatto è stato fondamentalmente lavorare sul viso andando a effettuare un peeling a secco che ha sostanzialmente rimosso il tessuto epideriale, quindi le cellule morte. Dopodiché quello che viene effettuato è un trattamento di micro-vibrazione compressiva, ovvero una compressione esercitata sul tessuto associata a una micro-vibrazione che consente proprio di lavorare in maniera diretta sulle fasce muscolari.